Siamo partiti questa mattina dicendo che negli ultimi anni, proprio a causa della pandemia, gli screening, in particolare quelli oncologici, si sono ridotti quasi della metà ed è purtroppo un dato negativo. Dobbiamo tornare a fare screening e oggi lo possiamo fare anche in modo diverso, potremmo dire anche in modo divertente. Allora, colleghiamoci, andiamo subito da Elena Fabi, andiamo al Foro Italico. Ti vedo in presenza del più grande campione del mondo. Sì, buongiorno a tutti, il campione dei campioni, Nicola Pietrangeli. Siamo nello stadio dedicato a lui, al grande campione. Sono ben 11 anni che tu segui questo progetto e sei legato a Tennis and Friends. Ci racconti qualche aneddoto? Sono molto contento, diciamo, di far parte di questa bellissima cosa, ripeto per l'esima volta, unica al mondo. Ripeto, unica al mondo perché è partita, se non sbaglio, con tre tende che era solo per la tiroide e adesso abbiamo passato 100 tende, cominciato con i gemelli e adesso si sono aggregati parecchi ospedali romani. Ma come sei venuto in contatto con Tennis and Friends? Cosa è successo nella tua vita? La famiglia me ne schincheri e quindi Giorgio, che è stato veramente l'inventore di questa manifestazione, che è nata, ma mi viene spiegato, forse è un po' lungo, ma magari un giorno lo farà lui, è nata quasi per caso. E poi se... E vabbè, certo che lo sapete, lo sai tu meglio di me. Però voglio dire, e quando... Ecco, no, no, Nicola, intanto, ricordiamo, Presidente onorario, voglio salutare anche le persone qui in studio, Giorgio Meni Schincheri, che è il Presidente di Tennis and Friends, e Patrizia Musetti, che adesso ci racconterà anche la testimonianza, perché... Voglio venire subito da lei, Presidente. Intanto abbiamo visto, abbiamo giocato, perché gli screening, la prevenzione, è anche divertibile. Cioè, dobbiamo avere un approccio diverso, perché fin troppo, spesso, siamo andati noi dal medico, anche un po' con la paura, che cosa potrebbe... Ecco, questo è un buon modo per fare prevenzione e divertirsi anche. E poi, soprattutto, scoprire, se mai ci dovesse essere qualcosa di negativo, scoprirlo prima è meglio. Beh, la diagnosi precoce intanto salva la vita alle persone, uno. La seconda cosa è quella che io ho pensato, undici anni fa, è quello di dire la paura, vedevo dall'attività professionale giornaliere, che la gente ha paura di andare, di recarsi negli studi privati, o comunque nelle strutture ospedaliere, per fare gli screening e per la paura di una risposta. Abbassare, quindi, creare un evento, un progetto, dove intorno a un'area sportiva, che comunque è prevenzione, quindi la promozione allo sport, la parola allo sport è prevenzione, l'area ludica, con i personaggi del mondo dello spettacolo, che aiutano, accompagnano per mano, abbassano il livello di tensione, e intorno vedi tutte le aree sanitarie, specialistiche, come se fosse un ospedale intorno ai campi da tennis, intorno alle aree sportive. Ho notato che, anche dalle interviste fatte nei questionari in questi anni, che il 35% dei 160.000 visite che abbiamo fatto in questi anni, 160.000 visite sono tantissime, il 35% non era venuto per fare la prevenzione, ma era venuto per assistere, o incontrare i bienemini del mondo dello spettacolo, per praticare lo sport anche a livello, per pochi secondi, avvicinarsi, per passare due giorni, ma poi ha visto che c'era la possibilità di fare, e quell'abbassamento di tensione li ha portati all'interno di uno studio allestito appositamente, e ha fatto dei controlli, e tra questi controlli puoi trovare, puoi scoprire, ma non bisogna stare per forza male. Certo, infatti, però, e qui entriamo proprio con la testimonianza di Patrizia. Patrizia, come è accaduto? Raccontaci la storia. Molto semplicemente. Una delle migliaia, poi. Una delle migliaia. Per divertimento, per vedere i giocatori di tennis, gente dello spettacolo, dello sport, e mi sono avvicinata allo stand della gastroenterologia perché avevo qualche problemino, e hanno riscontrato un problema grosso, non oncologico, ma comunque abbastanza grave, e tramite loro sono poi stata ricoverata in delle strutture, operata, però presa d'urgenza, di corsa, grazie appunto allo staff del Tennis and Friend, del Gemelli. Quindi la mia curabile, anche se grave, curabile, ma immaginiamo... Se non avesse fatto quel controllo quel giorno. Quindi, ecco, ma allora... Sarebbe stato molto difficile. Non sarei stata qui, probabilmente. Oggi possiamo sorridere. Allora, voglio tornare da te, Maria Elena, perché la cosa particolare è che con il presidente che hai accanto, con Nicola, lui è lì a guardare, e io sono uno di quelli che ha iniziato pure a giocare a tennis, e un po' me ne vergogno perché gioco malissimo, ma la cosa pazzesca è che, ad esempio, uno come Fiorello abbia iniziato a giocare a tennis, grazie a Tennis and Friends, e quindi ha anche la capacità poi di iniziare nuovi sport ad una certa età. Vero, presidente? Allora, giocare a tennis, per fortuna si può giocare fino alla fine, perché c'è gente, forse non lo sapete, che in America ci sono i tornei over 90, e giochicchiano, e sono naturalmente tutti malati di tennis, ecco perché ci vogliono gli infermieri. Però è un po' come il golf, puoi giocare fino a quando, basta, non cercare di strafare, perché purtroppo ci sono, tipo in agosto, voglio perdere qualche chilo e mi metto la tuta, e no, a quel punto lì, dei morì. Allora, nel frattempo ci ha raggiunto anche Roberto Ciufoli, perché qui, questo stadio, lo stadio dedicato a Nicola Pietrangeli, si sta gremendo di ragazzini, volevo far vedere, quindi il nostro cameraman, se può far vedere lo stadio che è pieno di ragazzi, Roberto Ciufoli, allora, cosa sta succedendo? Che cos'è il progetto scuola? Il progetto scuola è una novità quest'anno, ma che speriamo diventi poi un pilastro importante di Tennis and Friends. È un progetto, un contest che si è creato, è un progetto di Giuseppe Cipolloni, che ha portato nelle scuole una consapevolezza di quanto la prevenzione possa essere utile, e tutto questo arriva attraverso attività ricreative, ludiche, facciamo giocare. Roberto, per questa cosa, vedi, che poi hanno chiamato l'eterno giovane. Per far vedere che al peggio non c'è mai fine. È vero, non c'è mai fine. Allora, prima di salutarvi e darvi l'appuntamento quindi da oggi, sabato e domenica, la novità qual è? Ma la novità sono due. Intanto oggi dei giovani, perché penso e ipotizzo che sia importante partire dai giovani, la formazione dei giovani, soprattutto perché la pandemia li ha bloccati e li ha ristretti in casa, sono diventati molti sociali, non praticano attività sportiva, molti non l'hanno ripresa anche per motivi economici, quindi qua va sollecitato un po' come li possiamo aiutare. L'altra è che il campo centrale del fuoritalico oggi è diventato un ospedale, cioè quel campo centrale dove è inaccessibile per chiunque, sono stati creati 120 studi medici all'interno. Quanti medici sono? 120 studi medici, 23 specialistiche, 30 strutture sanitarie del Lazio, con medici volontari che per un weekend visiteranno dalle 10 alle 18, gratuitamente tutti quanti vogliono correre là, oltre tutte le forze armate, abbiamo la sanità militare, ecco le tende, quelle che abbiamo visto nell'anno della pandemia. E ci sarà anche lui, perché intanto è in corso a Bari il 74esimo Plex Italia, la rassegna internazionale promossa dalla RAI, che premia il meglio di radio, tv, web, da tutto il mondo. E guardate chi ci racconta l'appuntamento. 1, 2, 3, 1 mattina, buongiorno amiche e amici di 1 mattina, sono Flavio Insinasi, ho la barba ma sono sempre io, volevo ricordarvi che domenica sera sul RAI 1, seconda serata, c'è il PRI Italia, PRI vuol dire premio ma in francese fa più chic, cioè la grande RAI premia i programmi più belli che arrivano da tutto il mondo, programmi televisivi, radiofonici, il web, si parla di presente, di futuro, ma il futuro è già qui, guardate che bello il logo del PRI 2022, l'ulivo, naturalmente simbolo di pace, simbolo della Puglia, di Bari, una Bari meravigliosa che vi racconteremo, una Bari bella come non l'avete mai vista e guardate tra le foglie di questo ulivo parole bellissime, integrazione, innovazione, inclusione, educazione e sostenibilità, ce l'avete la sostenibilità? Non vi preoccupate, ve la diamo noi domenica sera in seconda serata sul RAI 1, PRI Italia, voi ci guardate e ci sostenete voi a noi, ecco fatta la sostenibilità e non vi preoccupate se facciamo un po' tardi, vi addormentate sul divano e lunedì chi vi sveglia? Uno mattina, vi aspettiamo domenica sera sul RAI 1, seconda serata, ho spiegato tutto male? Meglio, un motivo in più per guardare il PRI Italia, ciao! Ciao Flavio, e noi ci saremo! Allora chiedo al professor Meneschincheri, con chi mi potrò sfidare in questi giorni? Ma vuoi il capitano della Coppa Davis, Volandri, o vuoi per caso Rosario Fiorello e Maxi Giusti? Pino Insegno, dimmi un po' chi vuoi! Io direi una cosa... Allora, Maxi Giusti gioca molto bene! Lo so, è il fatto che sono tutti forti! Allora, noi vi ringraziamo però è questo perché ricordiamo che lo sport è salute alla fine! Assolutamente, è prevenzione soprattutto a te e saluto! Grazie, grazie! Io lo sai chi vorrei sfidare? Eh! Perché mi è simpatica! Eleonora Daniele, però non l'ho mai vista giocare! Vabbè, ma noi la mettiamo in campo! È forte! Ma noi la mettiamo in campo! È forte? È forte, è forte! Vuole venire? È forte! Eccola, la facciamo! Eleonora, vieni qua! Vieni qua, Eleonora! A padel! Ciao! Ah, che padel! Ciao, Eleonora! Ciao, Max! Eccola qua, perché siamo una grande squadra! Una grande squadra e come te la cagli con il tennis? Io benissimo! Benissimo, eccola là! Sono più brava a padel! Ecco, quindi avete trovato l'uomo orai che non sa giocare né a tennis né a padel! Ma non è vero! Ti insegniamo noi, non ti preoccupare! È vero! Allora!